Anticipazioni dei Dreamer, martedì 6 aprile 2021. Anche Uma durante la festa di saluti si dimostra molto affettuosa. La donna offre tutto il suo supporto a Sanem abbracciandola. Per la prima volta Uma non sta mentendo. Jeanne e Sanem si preparano a partire. Durante il viaggio in auto di Witt si accorge che Sanem è particolarmente triste a causa dei suoi genitori. Per questo motivo decide di fare marcia indietro e di portarla da loro. Mentre stanno tornando indietro fanno un grave incidente con la loro auto. Un camion si impatta in maniera molto violenta con loro e l'Aidin viene sbalzata fuori dall'auto. Inizialmente Sanem perde i sensi ma dopo si risveglia e si accorge che non le è accaduto nulla di grave. A rischiare la vita invece Jeanne che evidentemente ferisce in maniera grave dentro la macchina. Immediatamente Divit viene soccorso. Il fotografo si trova in coma in gravi condizioni e Sanem è sconvolta. Mentre cura le sue ferite e prova a riprendersi è anche distrutta per ciò che sta succedendo a Jeanne e non smette momento di stare al suo fianco. L'Aidin inizia a leggere le pagine del suo libro a Jeanne sperando che possa risvegliarsi ma non ci sono ancora segnali di miglioramento.